ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti allo yogurt il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 o farina per dolci yogurt alla vaniglia burro morbido uova zucchero semolato lievito vanillina e la scorza di limone diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero semolato la scorza del limone e la vanillina chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10 andiamo sul fondo del boccale lo zucchero aggiungiamo lo yogurt il burro le uova la farina e il lievito per dolci chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 50 secondi a velocità 4 l'impasto è pronto trasferiamolo su una spianatoia e adesso formeremo un panetto e lo trasferiremo in per almeno un'ora abbiamo ripreso l'impasto adesso lo stenderemo tra due foglie di carta da forno rimuoviamo il foglio di carta da forno adesso con degli stampini per biscotti andremo a formare i biscotti trasferiamo lì lo zucchero semolato e posizioniamo lì su una teglia rivestita con carta da forno proseguiamo così per tutto il resto dell'impasto una volta formati i biscotti li cuoceremo a forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti circa i biscotti sono cotti lasciamoli raffreddare del tutto prima di servirli biscotti allo yogurt grazie e alla prossima ricetta metti in pausa 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 metti in pausa